Al via questa settimana, l'Agora Fitness di Latina, la nuova stagione estiva di grandi eventi sportivi. Come di consueto ha fatto gli onori di casa Paolo Finestra, ideatore dello storico torneo Inge Callen, giunto quest'anno alla 29esima edizione, affiancato da Roberto Martin della Broker Sport, nella cabina di regia organizzativa, Finestra ha anticipato che la gloriosa Kermess punterà sulla continuità, ma anche su alcune interessanti novità. Prima su tutte, la possibilità di inserire in lista 12 giocatori per la fase eliminatoria. Si partirà il 18 giugno e si terminerà il 16 luglio. Dopo queste doverose premesse in sede di presentazione, si è passati alle manifestazioni più imminenti, già iniziate in questi giorni. Parliamo del Inge Callen Junior, una passerella per giovani talenti, ideata da Roberto Martin e dal professor Mauro Rubba. Giunta alla decima edizione, con la bellezza di 32 squadre iscritte, la rassegna è l'unica in provincia a godere del riconoscimento ufficiale della FIGC. Spettacolo assicurato anche per Aspettando l'Inge Callen, altro torneo che ha appena aperto i battenti. L'organizzatore Stefano Scala, in rappresentanza dello staff di Zonapontina.com, ha confermato la formula della prima riuscitissima edizione. Ampio spazio ai non tesserati e possibilità di misurarsi sul centrale dell'Agora Fitness per quanti non riescano ad ambire alla rassegna principale. Le 15 squadre saranno divise in tre gironi, le partite saranno seguite sul portale Zonapontina e la finale si giocherà la sera stessa dell'atto conclusivo dell'Inge Callen. Infine lo Young Boys, entrato a far parte da quest'anno dalla grande famiglia dell'Inge Callen. Giunto alla quinta edizione, il torneo è organizzato da Yuri Bacoli ed Enrico Rosati e ha la peculiarità di essere riservato agli Under 23, fatta eccezione per i due fuori quota di 24 anni concessi dal regolamento. Alla conferenza di presentazione ha partecipato anche Alessandro Negri di Mediolanum, azienda che ha sempre creduto in queste iniziative. Grazie a tutti.